Il campo gravitazionale terrestre è più intenso al livello del mare che in montagna, quindi il tempo scorre più lentamente al livello del mare che in montagna. Ciao! Come si spiega nel mio libro Capire il tempo e lo spazio, la presenza di masse ed energia influenza lo scorrere del tempo rallentandolo. Certo, sulla Terra l'effetto è esiguo, anche rispetto a chi vive su una montagna di 4000 metri, nell'arco di 100 anni per chi vive al mare passeranno a solo 1,3 millesimi di secondo in meno. Ma l'effetto già aumenta per i satelliti GPS che orbitano a 20.000 km dalla superficie terrestre. Tanto che gli orologi sui satelliti GPS devono essere appositamente rallentati per controbilanciare questo effetto, altrimenti non funzionerebbero come dovrebbero. Scopri di più sull'affascinante tema del tempo leggendo il mio libro Capire il tempo e lo spazio. Ti lascio il link in descrizione. Ciao! Grazie a tutti!